questa settimana non le piaceranno e dove è fuori, lo sa? sarebbe bello, vissi una volta ogni tanto almeno di meglio qui è la chinella ehi, Kamara ehi, Kamara e oggetti in vendita era destino che non comprassi nulla niente ne va allora non ti servono nuovi vestiti ma sono sicura che li vuoi, vero? su di te sta bene tutto non trovi? ah, ti sta benissimo no? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'è successo in ora? La navetta si è schiantata. La I.M. ci aveva messo con le spalle a nuova. Fortuna solo che la figlia è dentro. È un vero peccato quello che è successo a Tarot. Pensavo fosse uno dei buoni. Provo a non pensarci, vengono fuori. Ehi, Thor. Beh, fai pure. Chiedi. No, non volevo offenderti. Non è importante. Io... Quel che è fatto è fatto. Chiedi. Tony è riuscito a sollevare il martello o no? Perché lui dice di sì, ma io non credo sia possibile. Solo che ora gli dà ragione anche Jarvis, quindi... Non so più che pensare. Siete autorizzati all'atterraggio. Thor, come va? Ehi, posso chiederti una cosa? Con grande piacere. Si tratta di Mjolnir. Ah, di nuovo. Io sono più del mio martello. No, sì. Cioè, certo. Io ho sempre saputo che un giorno sarei tornato da Mjolnir. Come... Come... Come ha potuto un'altra versione di me abbandonarlo per sempre? Senso di colpa? Ho provato a convincerlo che quello che mi è successo non era colpa sua, ma... Sei testardo in qualsiasi linea temporale. Ricevuto. Dati aggiunti al tavolo strategico. Manderemo aiuti appena possibile. Grazie, controllo aereo. Dati ricevuti. Li passo al tavolo strategico. Grazie. Potevi chiedere. So come usare arco e frecce. L'hai spaccato a metà. Avrei capito se avessi rotto la corda, ma così... Gli Asgardiani sanno usare tutte le armi. Oh, mio Dio. Visto la stanza del signor Stark? Oh, Thor! Il mio semidio preterito. Uomo di ferro. Quasi. Voi, signor Stark, avete due visioni molto diverse. Andrà all'interno di un rivestimento protettivo. Non si vedrà mai. Veramente? Merda. Non si vedrà mai. Abbiamo localizzato un altro alveare d'Elite che costruisce adattoidi. Andiamo a fargli una visitina e mettiamolo offline. Mi hai letto nel pensiero. Carico le coordinate dell'entrata sull'interfaccia. Fate attenzione. È uno degli alveari dell'IM con la sicurezza più elevata. Ho segnato il terminale d'entrata dell'alveare d'Elite sull'interfaccia. L'entrata dell'alveare è vicina. Li abbatteremo. Infidati! No. 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 Ah! Le forze I.M. pattugliano l'area. Portatemi al terminale. È arrivata l'A.I.M. Non ne avete altri? Anche il tempo mi obbedisce. L'A.I.M. Non c'è. 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 Ho aggirato la sicurezza dell'ascensore. Ricordate, stiamo entrando in una delle strutture AIM più attrezzate. Dirigetevi verso il luogo segnato sull'interfaccia. Dovete sconfiggere quei nemici. Alla battaglia! Ora stai qui. Sei un vero amico. Ho invenuti qui per un bacio. I'imprimò che mi sono andati. I'imprimò che mi sono andati. Ho invenuti qui per un bacio. Ho invenuti qui per un bacio. Sottotitoli, sottotitoli! Grazie a tutti. I nemici sono stati sconfitti. I nemici sono stati sconfitti. Ti ricorderai di noi? Non dimentico mai i miei compagni di battaglia. Sai cosa ti dico? L'AIM usa delle turbine per alimentare i loro generatori d'emergenza. Disattivatele. Trionferemo! Arrivano! Per raggiungere le turbine dovete accedere al terminale. Per raggiungere le turbine di battaglia di battaglia di battaglia di battaglia di battaglia di battaglia di battaglia. Distruggete le turbine. L'AIM ha mandato delle unità per fermarvi. Mi inginocchierete tutto. O perirete. Quella turbina è andata. Ben fatto. Per raggiungere le turbine di battaglia di battaglia. Per raggiungere le turbine di battaglia 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 di batt Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccellente. Turbina distrutta. Buona notte! Buon appetito! Il generatore non è più operativo. Buon appetito! 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 di spegnimento se metterà le mani sui terminali. Impediteglielo. L'AIM sta provando a respingermi dal sistema. Sono nel sistema di sicurezza dell'AIM. Protocollo di spegnimento avviato. Mi state aiutando. Grazie. Inizio l'accesso. L'AIM sta provando a respingermi dal sistema. Ehi, che male! Mi state aiutando. Grazie. Sono nel sistema di sicurezza dell'AIM. Sparisci! Protocollo di spegnimento in corso. Inizio l'accesso. Ancherate lì! Sono nel sistema di sicurezza dell'AIM. Mi state aiutando. Grazie. Inizio l'accesso. Ammira, l'ira della natura! È stato uno schifo! Mi state aiutando. Grazie. Solo una ferita superficiale! Grazie per avermi coperto. Sono nel sistema di sicurezza di grazie per non pie. Grazie attraggare il risultato. Grazie per avermi coperto. Inizio l'accesso. Inizio l'accesso. La volta arrivi. Ma esco l'accesso. Non. L'hanno promosso direttamente a Capitano. Praticamente sì. Non è giusto. Perché? Non tella verità. Ho dato un pugno in faccia a Hitler. Ok, questo. Dirigetevi verso il luogo segnato sull'interfaccia. Sì, vieni! La battaglia! Sì, vieni! 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 Grazie a tutti. 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 Dovete sconfiggere quei nemici. Aprite il bifo! La tua battaglia finisce qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I nemici sono stati sconfitti. Grazie a tutti. Dovete sconfiggere quei nemici. Nemico avvistato. Li abbatteremo tutti. Li abbatteremo tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ce la faccio più, ragazzi! Non ce la faccio più, ragazzi! Non ce la faccio più, ragazzi! Ragazzi, sto lottando contro il dolore. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stati sconfitti. Sono stati sconfitti. È finita! No. 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 Sì Gli adattoidi sono concentrati all'ultimo piano State pronti Rappresentano l'apice della tecnologia adattoide AIM Nelle vicinanze c'è una squadra d'élite AIM Aggiorno l'interfaccia Rappresentano l'interfaccia Rappresentano l'interfaccia non siamo non mi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.